non posso tollerare questo nella mia casa ma cosa cercate di farmi volete ammazzarmi la vuoi sempre vita tu e da quando sono piccolo cos'è che faccio quello che vuoi tu a me per favore una volta prendi la mia decisione e guidare la macchina mi piace a me a subaru all wheel drive perfetta montagna perfetta quando faccio le curve guida che è un piacere cosa vuoi di più dai alla tua età devi capire che c'è qualcos'altro al tuo stile italiano va bene fai quello che e poi tu albora